buongiorno a tutti buona domenica eccoci qua oggi 22 ottobre ragazzi qui l'estate non finisce mai l'acqua ancora abbastanza è gradevole sui 20 22 gradi la temperatura fuori sarà sui 28 qui sono è la mia spiaggetta la baia del rosario come vedete i miei capolavori sono andati tutti giù ma le rifaremo prima di natale le metterò tutta l'impiede qualcuno è ancora rimasta saluti al mio amico milan ticera che mi ha aiutato tanto abbiamo fatto una sfida quest'estate con lui è stato bravissimo comunque ci aspetta ancora qua ciao a tutti vi auguro una buona domenica bacioni dalla sicilia a tutti io adesso faccio un bel bagno anche che ho dimenticato il costume sono in nudo integrale no non fa niente tante ormai non viene tanta gente qua si può stare anche a fare nudo integrale ok bacione a tutti